E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo appuntamento delle richieste di Xenoverse 2. Quest'oggi faremo l'ultima richiesta del nostro carissimo Eug90, che attenzione ha voluto rivivere i vecchi momenti di Dragon Ball 1. Una cosa molto interessante questa richiesta, perché in poche parole ci fa, come posso dirvi, ritornare alle origini. Infatti io volevo vedere un gioco di Dragon Ball che ritornasse una Dragon Ball 1. La cosa ragazzi la sta avendo Kakarot, perché è stato anche annunciato dopo il DLC, come vi posso dire, di Bardak. È stato annunciato proprio questo, che ci sarà un ritorno praticamente proprio alle origini di Dragon Ball. Che ci sarà il famoso torneo, il ventitresimo torneo Trenkaichi, che è proprio, vi ricordo che è l'ultima stagione di Dragon Ball 1. Dove si vede anche Goku un po' più ragazzo, tra virgolette, come si può dire, un po' più ragazzo. Però sono contento che abbia fatto questa richiesta. E ci portiamo a casa la prima vittoria. Molto bene, cari ragazzi, molto bene. Però ragazzi, volevo chiedervi una cortesia. Quando mi fate le richieste, cioè per cortesia, scrivete sotto al video Accetto Altre. Infatti quest'oggi che è l'ultima di Eug, anche se sta scritto Richiesta di Eug più Accetto Le Altre, per darvi segnale a voi. Però coloro che già hanno scritto una richiesta sono pregati di non commentare. Però devono commentare sotto al prossimo Accetto Altre, perché io non è che posso rivedere sempre i vecchi video. Perché c'è anche una probabilità che non ve la faccio, eh, la richiesta. Cioè, scusandomi ragazzi. Stavo pensando per Butokai Tenkaichi 4. Mmm, come mi converrebbe fare? Avevo detto nel video che potremmo fare pure le battaglie a squadre. Io stavo pure pensando che c'è una probabilità pure che ritornano le live, eh. Perché io il torneo mondiale, per conto mio, lo voglio fare. E non mi va di buttarmi nell'online, ragazzi. All'online, come vi posso dire, ci giocherò un... Come vi posso dire, un po' poco. A parte che lo vorrei platinare, eh. Come ho platinato Xenoverse 2. Eh, mannaccia a me che sbaglio. Eh, mannaccia. Ti butti sempre. Dai, vieni più sopra! Cazzo. Stamina Break del cazzo. Ragazzi, poi non rompete il cazzo che dite, sì, usare oltre il limite è da scarsi. Non mi rompete il cazzo. Io lo uso solo per questione di difensiva. Infatti, ma comunque ho il presentimento che... Questo, eh. L'unica cosa di Tenzing è che non ha delle combo perfette, ragazzi. Questo è il vero problema. E tornando al discorso, ecco. Vorrei tanto vedere un gioco di Dragon Ball ambientato anche in Dragon Ball 1. Per carità, ci può stare. Vabbè, abbiamo perso con dignità. Perché mi sto fermando troppo a parlare. Perciò sto perso. Perché se ci fermiamo un attimo a riflettere sulla questione, fare la prima serie di Dragon Ball, cosa che si era parlata addirittura in Xenoverse 2, sarebbe stato molto carino. Per carità, per carità, ma c'è qualcosa che non capisco perché hanno abbozzato Dragon Ball 1, perché poteva coinvolgere tutti quanti i Dragon, a parte per l'uscita della seconda stagione di Dragon Ball Super. Che io, posso esservi sincero, avrei più apprezzato se Dragon Ball Super sarebbe proprio finito col torneo del potere. Avrei proprio apprezzato perché così si chiudeva l'arco narrativo. Perché altrimenti dovrebbero mettere, come vi posso dire, avversari sempre più forti. Una cosa che vorrei tanto in Budokite in Kaiji 4 è già avere i personaggi predefiniti. Pure quelli di Super, che devono essere già predefiniti e non sprecare 100€ di pass e anche di DLC. Cioè, questo qua è la richiesta che richiedo a Budokite in Kaiji 4. Di avere già i personaggi fissi. Perché molti si sono lamentati proprio del fatto che i DLC, tipo pure quest'ultimo che coinvolge Orange Junior e anche Gohan Beast, è un po' rompipalle. Perché io adesso che sto giocando con questo profilo vecchio, che piano piano mi sto rifacendo tutti i DLC, perché ragazzi è pure una questione di soldi. Perché dovete anche, considerando che siamo qui in un'epoca dove la gente non è che può sprecare dei soldi per un gioco, cosa che io ho fatto con Xenoverse 2, sin da quando è uscito, comprandomi anche le medaglie PT. Ma lasciate perdere, guardate. Ok. Morto pure col triraggio. Ok ragazzi, vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento. Accetto altre richieste perché è stato l'ultimo. E ragazzi, vi chiedo praticamente proprio la cortesia. Cioè, cazzo, commentate qui sotto. E non sotto altri video che già sono usciti. Però, che cavolo. Cioè, così mi complicate il lavoro. Vabbè, va al lavoro. Non è il lavoro perché per me questo è solo una perdita di tempo di fare i video. Pensate un po' voi. Il mio lavoro è un altro. E nulla. Questo è ragazzi. Vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento. Iscrivetevi al canale. Qua da Sabit è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale. Grazie a tutti.